Il maestro Lucio Dalla nel 1980 scrisse è la sera dei miracoli. Fai attenzione, qualcuno nevicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. Il 9 giugno qualche tifoso ha sicuramente pensato che fosse la sera dei miracoli. Collegare il basket con Bologna e Lucio Dalla è un esercizio semplice. Prendere consapevolezza però che la Trapani Shark tornerà su un campo di Serie A è decisamente più difficile. Sono passati 33 anni dall'ultima volta che una squadra granata, l'allora Palacanestro Trapani calcasse il parquet della massima serie italiana. Eppure un anno e mezzo fa nessuno avrebbe ipotizzato quello che avremmo vissuto. Una stagione trionfante con una cavalcata che ha portato al record di 17 vittorie consecutive in A2. E il miracolo è proprio comprendere tutto questo. Comprendere che vincere al Paladozza a gara 4 ha un gusto che nessuno ci potrà mai spiegare. Si può solo vivere. Ma adesso è tempo di Serie A. E il destino ha deciso che deve essere nuovamente Bologna. Questa volta però Virtus. Una delle nobili del basket italiano con un roster attrezzato per l'Europa. Eppure il tifoso Granata non ci pensa molto. Sa che alle ore 20 si scriverà una nuova storia. Una storia straordinaria. E allora, come disse Lucio Dalla, questa sera vola. Vola Trapani Shark e rendici orgogliosi ancora una volta di tifare Granata.